Assenteismo, approssimazione e ritardi sono alcune delle criticità riscontrate dalla commissione d'inchiesta istituita dal comune di Milano per far luce sui tanti troppi decessi, circa 300, avvenuti al Pioalbergo Trivulzio, l'RSA più grande e importante d'Italia durante i mesi più difficili dell'emergenza sanitaria. Anziani infettati dal Covid-19 e in alcuni casi morti nella più totale solitudine senza l'aiuto e il conforto del personale che proprio nei giorni del picco epidemico al Trivulzio scarseggiava. Infermieri, medici, operatori sanitari, quasi due dipendenti su tre erano a casa in malattia. Negligenze e carenze che secondo i commissari, tra cui i magistrati Gerardo Colombo e Giovanni Canzio, non avrebbero però influito in maniera decisiva sulla gestione della crisi e non hanno prodotto esiti diversi o peggiori rispetto alle altre case di riposo lombarde colpite anche loro dall'epidemia di coronavirus. Dalla relazione emergono tuttavia responsabilità dei dirigenti, soprattutto nell'applicazione delle misure di sicurezza per i lavoratori, a partire dai dispositivi di protezione personale, anche se, ricorda la Commissione, quello dell'approvvigionamento è stato un problema che ha interessato tutte le strutture sanitarie italiane. Poche mascherine, nessun sistema antivirus per isolare e proteggere altre parti del corpo, camici, occhiali, copri scarpe arriveranno solo il 22 aprile. La relazione è già sul tavolo del Comune, della Regione e della Procura della Repubblica di Milano, dove è aperta un'inchiesta per epidemia colposa e omicidio colposo.